Buon lunedì a tutti, io sono Angela e voi siete sul mio canale Tutto dal web. Lo vediamo da queste immagini. Chiara Ferragni e Fedez sono risultati positivi al coronavirus. La coppia lo ha comunicato poche ore fa sui loro rispettivi profili Instagram molto seguiti. La coppia poi nonostante ha tenuto a precisare che i figli Leone e Vittoria al momento sono negativi e stanno bene. Tutto questo è accaduto dopo che qualche giorno fa la coppia per via del malessere della loro bimba avevano deciso di interrompere le vacanze di Natale in montagna assieme al resto dei loro familiari preferendo rientrare a Milano per stare anche più vicini agli ospedali. Avevano fatto tutti e quattro i tamponi ma Chiara e Fedez stavano aspettando proprio il molecolare di questa mattina e così hanno scoperto proprio oggi che sono positivi al coronavirus. Dobbiamo indossare, conclude Fedez, le mascherine in casa tutto il giorno per tutelare i bambini non potendo tenere più di tanto le distanze e quindi dovendoli accudire. Ha spiegato il cantante aggiungendo che per ora siamo tutti bene, siamo asintomatici, la nostra priorità rimangono i bambini e sperando che stiano bene quindi continuiamo così. So che molti sono nella nostra stessa situazione quindi teniamoci compagnia a vicenda, sosteniamoci a vicenda. E anche loro come giovanotti sono stati colpiti da Covid. Speriamo che tutto si risolve per il meglio e augurano infine la loro Instagram Stories in bocca al lupo a tutti.